Vince il premio Piazza Mario Monicelli Riccardo Rossi Vediamo il video Il premio del Magna Grecia Film Festival mi ha attribuito il premio Piazza Mario Monicelli cioè la mia arena preferita per il mio film la prima volta di mia figlia perché è stato il film più accamato dal pubblico cioè da voi quindi voglio ringraziare tutti voi tutta la giuria vorrei essere lì con voi ma questa sera non posso perché avevo una serata qui a Roma da fare adesso mentre voi vedete questo filmato io sono in scena villata col mio show quindi voglio ringraziarvi personalmente sono euforico come vedete è il primo premio che vince questo film sono molto contento non so più che ringraziare sono contento degli attori che hanno contribuito a questa bella opera prima e cioè Anna Foglietta, Stefano Fresi, mia figlia Bredetta Cargari, Fabrizia Sacchi, Gian Piero Mancini il sottoscritto voglio ringraziare i miei sceneggiatori tutta la truppa che mi ha aiutato ma soprattutto ringrazio voi che mi avete attribuito questo premio e che mi avete fatto passare una magnifica serata in vostra compagnia quindi grazie ancora e viva il Magna Grecia Film Festival, grazie, ciao! La motivazione? Un premio importante perché dà voce alla gente per il calore e i consensi con il quale il pubblico ha risposto ad un'opera prima tenera e delicata che ha suscitato risate ed emozioni il premio è rivolto anche al suo regista Riccardo Rossi che ha catturato e coinvolto i numerosi presenti con la sua verve e la sua sensibilità ponendosi allo stesso livello dello spettatore che si è sentito piacevolmente protagonista grazie